Aveva fatto entrare i clienti da una porta sul retro per servire loro da bere, ma una pattuglia della Guardia di Finanza di Pordenone li ha sorpresi e è accaduto in un bar di Prata. I finanzieri hanno multato il gestore e i due clienti per aver violato le prescrizioni imposte dai decreti. Il bar infatti doveva essere chiuso, in quanto la somministrazione di bevande e alimenti è vietata. Le forze dell'ordine continuano quindi a scoprire trasgressioni al decreto di contenimento. Ieri sul territorio regionale sono state controllate 4.211 persone, di cui 144 sono state sanzionate e due sono state denunciate per falsa attestazione, altre 11 sono state denunciate per altri reati. In base ai dati diffusi dalla Prefettura di Trieste, ieri sono stati controllati anche 1.195 esercizi commerciali e sei titolari di attività sono stati sanzionati. Sempre ieri i carabinieri del radiomobile della compagnia di Sacile hanno arrestato per spaccio un 19enne gambiano, residente a Pordenone, rifugiato politico, con specifici precedenti di polizia. Alle 16.30 il giovane è stato controllato in Piazza Libertà a Sacile, vicino alla stazione ferroviaria. Era appena sceso dal treno e dimostrava nervosismo. Sotto posto perquisizione è stato trovato in possesso di 100 grammi circa di marijuana, avvolta in una borsa di nylon, poi sequestrata insieme a un telefono cellulare. Insieme alla procura di Pordenone sono in corso accertamenti per risalire alla provenienza della droga, probabilmente acquistata nelle aree di spaccio del Veneto. Le indagini sono volte anche a individuare potenziali acquirenti e consumatori, dal momento che il quantitativo sequestrato non giustifica l'uso esclusivamente personale.